Il famosissimo Krav Maga, tecnica militare di difesa personale reale con una street defense technique, abbiamo il piacere di presentarvi la ICMO, International Krav Maga Organization, una delle migliori scuole a livello internazionale di difesa personale di derivazione militare, è diretta dal maestro Marco Moranico, in occasione del Fight Games la scuola compie 10 anni di attività, quindi uno spettacolo con gli amici della ICMO International Krav Maga Organization. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.